Tutte le forze politiche d'opposizione nel Parlamento tedesco sono favorevoli all'istituzione di una commissione di indagine sullo scandalo Wirecard. Dopo il parere favorevole di Alternative for Deutschland, dei liberali e del partito di sinistra, anche i Verdi si uniscono alla lista. La vicenda è esplosa nei mesi scorsi quando venne alla luce un ammanco da 1,9 miliardi di euro, ha messo sotto osservazione l'attività dell'autorità federale di vigilanza finanziaria, della società di rating Ernest & Young e dello stesso governo Merkel. Secondo i parlamentari schierati a favore della commissione, resta da chiarire come sia stata possibile quella che viene definita una gigantesca frode e chi sia il responsabile politico di quanto accaduto. I vertici di Wirecard, che quotata in borsa, a settembre dell'anno scorso fecero parte di una delegazione di operatori economici tedeschi in Cina insieme alla cancelliera Merkel. A scandalo scoppiato, un portavoce del governo di Berlino ha sottolineato che la cancelliera ai tempi della missione non era a conoscenza delle attività della compagnia finanziaria. Uno dei top manager della società, Jan Marsalek, fa ora parte della lista dei ricercati della Polizia federale tedesca ed è accusato di falso in bilancio Insider Trading per il sospetto che la sua conoscenza della reale consistenza della società gli abbia permesso di conseguire ulteriori guadagni illeciti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.